Per dare riscontro a questo nostro commercio, che negli anni 50 i nostri avi avevano tutta la zona, praticamente erano commercianti di maiali, noi per dare alito a questa cosa qui abbiamo fatto la Sagra del Maiale, dove noi con il ricavato della Sagra ogni anno cerchiamo di mettere qualche mattone, qualcosa in più a questa chiesa, a questa contrada. Dal primo al 7 di agosto, tutte le sere, speriamo che vengano in tanti a onorare questa Sagra, anche perché ogni anno vediamo che c'è sempre più affluenza, vuol dire che la cosa è buona e la cosa patta bene. Serviremo un menù con tre diverse qualità di primo, a partire dalla mezzemanica al sugo di pecorara, polenta al sugo di pecorara e gnocchi ripieni col sugo di pecorara. In questo menù il menù completo sarà formato da oltre un primo anche un arrosto di maiale, quindi una braciola, costatella e una salsiccia. Dopodiché ci saranno anche accostati dei fritti, sia delle olive che del formaggio fritto. Siamo arrivati alla dodicesima Sagra anche grazie a questi numeri e speriamo di proseguire, anzi di incrementare.